Buongiorno, dalla linea 10 alla 19 avete una delle varianti catechistiche in modo da ripassare i dieci comandamenti. Buongiorno, dalla linea 10 alla 19. Noi quest'oggi daremo un'occhiata ai comandamenti dalla linea 13 alla linea 16, sono i quattro comandamenti centrali e noi cercheremo di capire cosa sta sotto, perché dire onore il padre e la madre, conosciamo già dove sta il problema, ci sembra di sapere cosa vuol dire. E si dice la stessa cosa con il non ammazzare, non fornicare, che poi tra l'altro ci sono persone che ripetono non fornicare, ma se poi gli chiedi che cosa vuol dire, vuol dire non andare nei fornici. Il problema è sapere cosa sono i fornici. Vediamo una cosa alla volta. E poi non rubare chi lo sa perché in automatismo associamo questo comandamento al mondo politico, al mondo imprenditoriale, amministrativo. Il nostro elenco non è completo se ci fermiamo lì. Quindi nessuno dice che non ci siano dei problemi nel mondo politico, amministrativo, imprenditoriale, ma non sono solo loro. Vedrete che forse qualche ragnatela ce l'abbiamo anche noi. Bene, questa è la morte di cui oggi dovremmo morire. Partiamo subito e diciamo che il comandamento che riguarda il padre e la madre è l'unico comandamento che ha delle varianti, mentre invece gli altri vedremo che in tutti i due i decaloghi, sia quello del libro dell'Esodo sia quello del libro del Deuteronomio, sono identici, non hanno nessuna variante. Diamo un'occhiatina, solo così per il gusto di curiosare, alla linea 22. Sopra abbiamo il comandamento del libro dell'Esodo e sotto abbiamo il comandamento del libro del Deuteronomio. Nel libro dell'Esodo, se notate, è molto più corto, perché il Deuteronomio infila dentro due frasi che nel libro dell'Esodo non ci sono. Il libro dell'Esodo dice «Onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà». Su questo testo viene inserito qualche cosa. «Onora tuo padre e tua madre come il Signore tuo Dio ti ha comandato». E' un'altra cosa. Perché si prolunghino i tuoi giorni e tu sia felice nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Perché ci sono queste varianti? Beh, il motivo è abbastanza semplice. Mentre nel libro dell'Esodo noi presupponiamo dal racconto di trovare gli ebrei ai piedi del Sinai e quindi all'inizio di quel grande cammino che appunto è l'Esodo. Il paese è ancora davanti, bisogna ancora entrarci. Vivere nel deserto ovviamente non è una vita semplice, è una vita grana. E nel deserto ovviamente si muore prima. In una terra che produce frutti dove si è stanziali e non nomadi la vita ha qualche anno in più. E quindi il libro dell'Esodo parla in questi termini «Onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà». «Sembra quasi che l'onore dato ai genitori sia compensato con la terra e la vita lunga che ne deriva. Questo è ciò che presuppone il racconto. Il racconto nel libro del Deuteronomio presuppone che si sia la vigilia dell'entrata nella terra. Gli ebrei si trovano nelle steppe di Moab, si trovano a destra del Mar Morto guardando la cartina geografica, Mosè li fa il grande riassunto dei quarant'anni precedenti e lo fa a ragion veduta. Non perché i suoi destinatari abbiano dimenticato quello che è successo, ma perché non l'hanno conosciuto. La generazione degli ebrei che è uscita dall'Egitto è morta nel deserto. E la generazione che è nata nel deserto sta per entrare nella terra promessa. E quindi questa generazione non ha conosciuto le famose piaghe d'Egitto, il cammino fatto nel deserto per arrivare al Sinai, non ha conosciuto l'esperienza del Sinai. E quindi Mosè, ormai arcivecchio, riassume a questa generazione nel libro del Deuteronomio tutto questo. E quindi deve riproporre tutte le leggi che invece i padri degli attuali ascoltatori avevano ricevuto direttamente da Dio. Nose le deve ripetere e quindi le ripete con delle varianti. Questa è la superficie, quello che si legge. Poi arrivano i biblisti e dicono guardate che non è così. Purtroppo abbiamo un compito, quello di disilludere le persone qualche volta. Il libro dell'Esodo, o meglio il Decalogo, così come noi lo leggiamo oggi nel libro dell'Esodo, è un testo che è stato fatto durante il periodo Regio. Probabilmente o nella zona del Regno Unito, soprattutto Salomone, oppure nel Regno del Nord. E quindi gli ebrei possiedono già la terra. E questo spiegherebbe il tempo del verbo. Il testo non dice la terra che il Signore ti darà. Siamo nel Sinai, la terra arriva 40 anni dopo, se stiamo al racconto. Mentre invece il testo dice che il Signore ti dà. Adesso. E il libro del Deuteronomio contiene un Decalogo che nasce alla fine dell'esilio. Gli ebrei sono a Babilonia, schiavi, hanno sentito il Deutero Isaia che dice guardate che torniamo a casa. Hanno sentito Ezechiele che dice guardate quando torneremo Gerusalemme lo edificheremo così, il Tempio lo edificheremo colà. quindi sono ormai in procinto di tornare nella terra. E allora avete queste aggiunte che spiegano la situazione storica. Perché gli ebrei sono andati in esilio? Perché hanno disobbedito. hanno disobbedito all'alleanza. E allora il Levita che compone questo testo ricorda agli ebrei che bisogna obbedire. E c'è l'aggiunta come il Signore tuo Dio ti ha comandato. L'altra aggiunta riguarda il passaggio dalla schiavitù di Babilonia alla libertà di Gerusalemme. Tu sia felice libero nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. E lì il decreto di Ciro sta per essere scritto quindi è questione di qualche mese. Questa è la spiegazione di queste varianti che trovate che trovate nel Deuteronomio. Quindi avete due situazioni storiche diverse in cui il testo viene redatto. Il Deuteronomio rispetta il testo più antico che è quello dell'Esodo e ci infila dentro queste due piccole aggiunte il comando il comando e la felicità. Detto questo adesso cerchiamo di capire il senso di questo comandamento. Non è difficile basta intenderci sulle parole. la prima linea ebraica del libro dell'Esodo prima parola a destra quella è la chiave. Tutto sta in quella parolina piccola lì. Si legge Kabet il primo è un kaf il puntino che ha in pancia quella specie di C rovesciata ha un puntino quello appartiene al begat chefat non è importante. Sotto c'è una linetta e una media. subito dopo avete il bet col puntino in mezzo quello è importante. Voi dite come fate voi biblisti a sapere che uno è importante e l'altro no? Sono tutti due uguali. Perché uno è l'inizio di parole e non vale un Kaiser. Serve solo per la pronuncia. E il secondo invece se c'è indica un modo del verbo in questo caso un Piel se non c'è indica un Kal un altro modo del verbo basta un puntino per cambiare il mondo. Sotto invece avete due puntini e una specie di virgoletta la virgoletta è l'accento i due puntini sono la E la tettoia invece è un D di Tomodossola Cabet quello è il rebus perché il rebus perché questo verbo è un verbo stativo sì buonanotte nelle lingue orientali esiste il verbo stativo che è un aggettivo coniugato io buono tu buoni e gli buona noi buoniamo voi buoniate e si buonano in italiano è impossibile in ebraico invece sì sono aggettivi che vengono coniugati come il verbo e vengono chiamati verbi stativi perché non indica un'azione indicano una qualità come noi adoperiamo il verbo essere più l'aggettivo per indicare una qualità loro invece verbalizzavano l'aggettivo stesso e quindi di per sé cabet senza il puntino sarebbe un aggettivo e vuol dire pesante io pesante tu pesanti e gli è pesanta noi pesantiamo voi pesantate si pesantano assurdo per loro no il concetto dunque è peso certamente se qui in mezzo a noi ci fosse Matarella il presidente tu dici la tua opinione lui dice la sua quale delle due opinioni più pesante cioè quale pesa di più quale attrae più l'attenzione la tua o la sua può darsi che tu dica una cosa intelligentissima lui dica una stupidaggine ma comunque è la parola del presidente che se ne dica qui occorrerebbe che noi tornassimo un pizzichino di più al mondo greco dove la cosa è importante per se stessa non per chi la dice mentre invece noi viviamo in un mondo in cui se un prete di campagna dice no guardate che in caso di necessità il contraccettivo va adoperato viene considerato un estravagante se lo dice invece Papa Bergoglio in aereo allora è perfetta beh insomma andiamoci piano la morale non cambia in aereo rispetto al vivere quotidiano con i piedi per terra e la morale non la fa il Papa non la faccio io non la fate voi non la fa lui la morale è quella che è punto non uccidere non uccidere non è che uno lo possa cambiare basta capire cosa vuol dire Cabè dunque ruota sempre attorno al concetto di peso è ovvio che in una dinamica di tipo sociologico chi è capo ha un peso maggiore rispetto ad un altro noi noi in occidente questo peso lo chiamiamo onore noi in oriente lo chiamano peso tu sei un uomo di peso noi diciamo tu sei un uomo di onore ma non è molto bello in italiano perché richiama ma il concetto mi pare che sia chiaro al di là dell'equivoco dell'espressione che nel nostro linguaggio quotidiano può avere tu sei un uomo che merita onore tu sei un uomo che ha un peso questo sono i due concetti occidentali e orientali e quindi quando io trovo un ordine con il verbo stativo in questo caso Piel il Piel in ebraico è una forma del verbo intensivo io dico io uccido vi dico questo verbo perché è il verbo comune che si trova nelle grammatiche io uccido katal in italiano l'intensivo è io massacro dobbiamo adoperare un altro verbo in ebraico invece infilano il puntino sulla pancia della consonante che sta in mezzo della seconda e modificano la vocalizzazione allora katal io uccido anzi egli maschio uccide perché la terza persona singolare è maschile kitel è sempre la stessa radice ma cambiano le vocali e c'è il puntino in mezzo in questo caso egli massacra cabet senza puntino in mezzo egli ha peso o egli è pesante e invece cabet col puntino in mezzo è un intensivo meritare il giusto peso capite? in italiano non si può dire dai il giusto peso a tuo padre a tua madre non si può? è brutto? dai il giusto peso a Bergoglio 90 kg non è questo da noi dicessimo dare il giusto peso è un'espressione equivoca e allora diciamo onora ma l'onora non esiste gli ebrei capivano benissimo che cosa significava cabet e anche noi se ci ragioniamo un poco tuo padre e tua madre ti mettono al mondo tuo padre non vuole elaborare e quindi ruba e tua madre per arrotondare quello che ruba il papà fa il mestiere più antico del mondo e sono felicissimi di vivere così e ti educano così e quando tu cominci a frequentare i tuoi amichetti di scuola cominci a capire che papà e mamma non sono tutti così c'è il papà che sacrifica va a lavorare la mamma fa le economie giuste e tu cominci a fare il paragone e dire ma quello è figlio di un papà di una mamma io sono figlio di mio amico può onorare il padre e la madre io come faccio a onorarli ci sono casi ben più gravi questo è solo un esempio di superficie invece la dicitura ebraica è perfetta dai giusto peso allora quel padre disgraziato che vive solo rubando perché non vuole lavorare e quella mamma disgraziata che si porta gli uomini a casa meritano che tu abbia attenzione per loro perché loro sono state la porta della vita per te meritano perché da bambino tu potevi morire invece ti hanno accudito ma per il resto non meritano niente l'altro amichetto può dire mio padre e mia madre sono state la porta della vita per me mi hanno accudito quando ero piccolo e adesso mi stanno crescendo educandomi ai valori della vita questo secondo ha altri motivi per dare il giusto peso ai genitori e il rapporto che questo secondo bambino ha con i genitori è diverso dal rapporto che il primo bambino ha con i suoi e tutti i due si trovano a loro agio di fronte al comandamento cabet dai il giusto peso a tuo padre e a tua madre nessuno dei due può dire ah no questo è un comandamento che non mi riguarda perché i miei genitori sono gran figli di mamma no comandamento vale per tutti teniamo presente poi che questo comandamento che dice dai il giusto peso a tuo padre e tua madre nel mondo orientale aveva un valore molto diverso dal nostro noi la lingua la impariamo dai genitori e la lingua non è una cosa che potremmo calcolare optional nella vita perché il primo compito della lingua è capirsi non trasmettere un messaggio è capirsi quando il genitore ti insegna una lingua ti insegna a capirti quello che senti gli dai un nome e poi lo esprimi quando senti la sabbia negli occhietti impari a chiamare questa sabbia sonno o sonno tu hai espresso qualcosa sì ma hai espresso te stesso e se non conosci la lingua per esprimere te stesso piangi e basta quel buco che senti nello stomaco si chiama fame oh fame non sai dirlo gnaaa hai sonno piangi hai fame piangi hai il ruttino che ti va di traverso piangi hai paura piangi piangi questo è l'unico linguaggio quello che tua madre e tuo padre ti insegnano invece è capirti la lingua ha questo primo compito poi ne ha un secondo quello di interpretare il mondo che ti sta attorno la lingua è il primo grande prima grande scienza ermeneutica interpretativa che il bambino impara chi glielo dà i genitori ma io non lo battezzo perché faccia quello che vuole da grande scusa perché l'insegni di italiano lasci stare che impari quello che vuole da grande per alcune cose si vale il principio per altre cose no va a capire tu perché perché invece di vestirlo con pantaloni e camicia non lo vesti col chimono o lo lasci nudo come un verme poi farà quello che vuole da grande io sto adesso seguendo una ragazzina di 13 anni figlia di due persone cattoliche che vengono a messa tutte le domeniche ma non hanno battezzato la bambina perché farà quello che vuole da grande probabilmente da una parte c'è un equivoco sul concetto di libertà e dall'altra c'è una non conoscenza omerica nei confronti di questo sacramento